Ciao a tutti! Ciao! A tutti i soci Dance for Fun vi aspettiamo sabato 6 giugno con la seconda parte del nostro tango e parleremo dell'interno e dell'esterno del giro, del timing, delle azioni della testa, del corpo, dei nostri scatti, quindi della passione del tango italiana e tanto altro. Quindi seguiteci, vi aspettiamo! Ciao!